Una corretta pulizia viso assicura una pelle sana, radiosa e giovane più a lungo. Usare dei buoni detergenti viso è fondamentale per purificare, rivitalizzare e preparare la pelle ai trattamenti successivi. Sceglierli non è facile, soprattutto se si considerano le numerose proposte offerte dal mercato. Ma niente panico, in questa guida ti diciamo tutto quello che c'è da sapere sui detergenti per il viso e quali scegliere nel 2022. In base a tipo di pelle, inci e popolarità sul web. Indice. Estee Lauder Perfectly Clean Mus Detergente Viscinorma Derm Fit Solution Clinic Facial Soap Fenty Skin Total Cleanser Laneige Multi Deep Clean Cleanser Fit Relax Laboratories Gel Detergente Spumone Vera Lab By L'estetista Cinica La Roche Posè Detergente. Vise Faclar Cerave Crema Idratante Glamiugente Le Buble Detergente Viso Delicato Detergente Viso A cosa serve? Detergenti Viso, come quando si usano la doppia detersione, cos'è e come si fa tipologie di detergenti Viso Detergenti Viso Gel Detergenti Viso in Musso Schiuma Detergenti Viso a base oleosa saponetta per il viso Detergenti Viso in polvere Latte Detergente Acqua Micellare Detergenti Viso Struccanti Bifasici Detergenti Viso, come sceglierli cosa devono contenere Conclusioni Ecco la classifica dei migliori detergenti Viso del 2022 selezionati per te, costantemente aggiornata con gli ultimi trend Estee Lauder Perfectly Clean Mus Detergente Il migliore detergente viso rinfrescante leggera, è una muschia con un tocco delicato rende la pelle liscia e setosa Tutta l'esperienza di Estee Lauder è riassunta in questo detergente cremosso che, a contatto con l'acqua, si trasforma in una soffice schiuma detergente Elimina il make-up, le impurità e i residui di smog depositati sulla pelle senza seccarla Puoi usarla in due modi Come detergente quotidiano mattina e sera oppure come maschera purificante da tenere in posa 3 minuti fino a 2 volte a settimana Perfectly Clean Detergente in schiuma multiazione maschera purificante 39 euro Vedi dettagli Sephora It is of Gen 11, 2023 19 e 50 Vici Norma Derm Fit Solution Migliore detergente viso per pelli sensibili Un gel detergente purificante dal profumo leggermente agrumato, specifico per pelli impure e sensibile La formula ricca in minerali e probiotici contribuisce a ridurre il sebo in eccesso senza risultare aggressiva sulla pelle Il pH 5,5 lo rende adattabile su ogni tipo di pelle, anche quella più sensibile Cosa fa? Pulisce, strucca, affina la grana, riduce le macchioline sul viso La texture è morbida e fresca, a contatto con l'acqua si trasforma in una schiuma piacevole sulla pelle, facile da risciacquare Vici Norma Derm Fit Solution 200 ml 14,99 euro Euro 13,02 in stock 29 new from 11 euro Spedizione gratis Vedi dettagli Amazon It is of Gen 13, 2023 Mezzanotte e 46 Clinic Facial Soap Detergente viso per tutti i tipi di pelle Il primo step della cura per la pelle secondo clinic è tutto qui Un detergente viso riadattato in quattro versioni differenti per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di pelle La sua particolarità? Formula Oil è una fresca texture in acqua gel che si fonde subito con la pelle Grazie alla tecnologia CleanShield e alla sinergia di semi di girasole, estratto d'orzo e cetriolo, acido ialuronico la pelle è subito Rinfrescata e idratata a lungo Per una detersione gentile che non inaridisce la pelle ma la idrata con dolcezza, minimizzando le desquamazioni superficiali Clinic Liquid Facial Soap Mild Sapone liquido delicato 19,90€ Vedi dettagli look fantastic It is of Gen 11, 2023 19 e 50 Vuoi saperne di più? Leggila i giti.e virgola recensione dedicata e lt, Fenty Skin Total Cleanse Detergente viso per pelle secco Un detergente super pop quello ideato da Rihanna che con Fenty Skin propone la soluzione per le pelli Secche e molto secche, uno struccante in crema che ha contatto con l'acqua diventa una schiuma soffice profumatissima Specifico per pelli che tirano e soffrono di estrema secchezza, è ricco di antiossidanti e nutrienti grazie alla presenza in formulazione Della celebre ciliegia delle Barbados e del cocco Un detergente dalla profumazione irresistibile con una consistenza ricca e confortevole al quale resistere è impossibile Completamente vegano, purifica e idrata al tempo stesso lasciando la pelle vellutata e profumata Un must per le fan, e non, di riri Detergente viso Fenty Skin Total Cleanser 23 euro Vedi dettagli sefora It is of Gen 11, 2023 19 e 50 Laneige Multi Deep Clean Cleanser Il migliore detergente multiuso Enzimi di papaya ed estratti di mirtillo per una pulizia del viso che è più di una coccola Il detergente di Laneige pulisce, nutre, detossifica e tonifica la pelle del viso in un unico gesto A contatto con l'acqua diventa una schiuma ricca e morbida con la quale rimuovere le cellule morte, struccare il make up, anche quello Waterproof, e illuminare la pelle Adatto per la doppia detersione, è un detergente non comedogeno adatto anche a pelli miste e grasse Bye bye grigiore, benvenuto incarnato sano e radioso Laneige Multi Deep Clean Cleanser 22 euro Vedi dettagli sefora It is of Gen 11, 2023 19 e 50 FitRlax Laboratories Gel Detergente Il migliore detergente viso biologico economico deterge e rinfresca con una formula 98% naturale e biologica, priva di parabeni, siliconi e oli minerali Con estratto di aloe e salice bianco, è un detergente riequilibrante e opacizzante che rinfresca la pelle e la purifica, lasciandola morbida e setosa al tatto La texture è in gele e a contatto con l'acqua produce una leggerissima schiuma piacevole da lavorare sulla pelle Certificato ICEA, è completamente made in Italy e il profumo è 100% naturale Per gli amanti del green FitRlax Laboratories Gel Detergente 200 ml 9,09 euro Euro 6,50 in stock 5 new from 4,80 euro Spedizione gratis Vedi dettagli Amazon It is of Gen 13, 2023 Mezzanotte e 46 Spumone Vera Labba E l'estetista cinica Detergente schiumogeno viso made in Italy Una soffice schiuma, morbida, delicata e profumata Più che un sapone, e una nuvola, l'idea di Cristina Fogazzi, in arte estetista cinica, convinisse conquista il web Merito di una formulazione a base di estratti vegetali, bacche di acai e goji, melograno, mangostano e gels indiano per citarne solo Alcuni, che promette di idratare e nutrire la pelle mantenendola bella e giovane Utilizzo dopo utilizzo L'utilizzo migliore Abbinato all'olio denso per la doppia detersione Non potrai più farne a meno Vai alla pagina dedicata alla Roque Posay Detergente Viso e Faclar Il migliore detergente viso per acne Un gel detergente schiumogeno specifico per pelle grasse e acne La Roque Posay mette a punto una soluzione delicata ma incredibilmente efficace per la pelle grassa di cui mantiene equilibrati i livelli di idratazione con assoluta delicatezza Rimuove impurità ed eccesso di sebo, riduce i punti neri e controlla la lucidità La pelle è pulita e fresca, radiose e perfettamente levigata Fortemente consigliato per le pelli acneiche, le infiammazioni sono ridotte dal primo uso In formulazione acqua termale di la Roque Posay Zinco, attivi utili per controllare la lucidità e regolare la produzione di sebo nelle pelli grasse La Roque Posay Faclar Gel Mousse Purificatore per pelle grassi 21,80 euro in stock Trenton New From 15,77 euro Spedizione gratis Vedi dettagli Amazon It is of Gen 13, 2023 Mezzanotte e 46 Desideri risultati ottimali? Abbinalo con il siero e fa claregiti.e virgola leggi la recensione ELT Cerave crema idratante Detergente viso con miglior rapporto qualità, prezzo, con tre ceramidi attivi e acido ialuronico È un detergente idratante per pelli normali e sesecche Deterge, idrata e ripristina la barriera cutanea mantenendo la pelle morbida ed elastica Rimuove efficacemente sporco, make up, residui di olio e polveri sottili depositate sulla pelle Delicato e adatto anche alle pelli sensibili, non è comedogeno e non contiene profumo Cerave, crema idratante, 454 grammi 16 oz, crema idratante quotidiana per viso, corpo e mani 19 euro e 79 centesimi In stock 30 new from 15 euro e 45 centesimi Vedi dettagli Amazon It is of Gen 13, 2023 Mezzanotte e 46 Per saperne di più sui ceramidi e GT, leggi la recensione dedicata alla crema idratante Cerave per pelli Secche e molto secche ELT Glami o ugentile buble Detergente viso delicato Il detergente viso più delicato sulla pelle a base di avena, è un detergente quotidiano delicato e nutriente La texture in crema a contatto con l'acqua tiepida crea delle simpatiche bolle scoppiettanti che puliscono il viso e rimuovono ogni tipo di sporco A renderlo speciale è la capacità di detergere la pelle in profondità senza aggredirla, lasciandola morbida e vellutata al tatto dopo ogni utilizzo Confortevole, è piacevole da usare e si risciacqua con facilità La formula si arricchisce di estratto di mela, vitamina e tè verde Non contiene solfati, SLS, SLS, parabeni e ftalati Detergente viso, a cosa serve? È la prima fase della skin routine ed è fondamentale per mantenere la pelle giovane più a lungo La prevenzione passa infatti proprio da questa prima fase Pulire il viso è un gesto indispensabile per evitare le tanto temute rughe Il detergente è utile per pulire la pelle in profondità, rimuovendo lo sporco depositato in superficie, trucco, sudore, altri tipi di residui, polveri sottili, inquinamento, liberare i pori ostruiti dal sebo in eccesso Purificare la pelle e rimuovere le cellule morte rimaste in superficie Preparare l'incarnato e trattamenti successivi come creme, sieri, tonici Risvegliare la pelle al mattino, rimuovendo l'eccesso di sebo prodotto durante la notte e gli eventuali residui di sudore Preparare la pelle al make-up Prevenire l'invecchiamento e quindi ritardare la formazione delle rughe Detergenti viso, come quando si usano Il detergente per la pulizia del viso si usa mattina e sera, rigorosamente prima del tonico Alcuni detergenti sono struccanti, quindi si prestano ad unico utilizzo che prevede struccaggio e pulizia È il caso del celebre take the day off di Clinique o dell'acqua micellare, come vedremo nel paragrafo dedicato alle tipologie di detergenti viso Si usa sulla pelle leggermente inumidita con acqua tiepida, ciò consente di aprire i pori, o dopo aver utilizzato il vapore, massaggiandone la quantità giusta su tutto il viso Generalmente questo tipo di prodotto non va usato sul contorno occhi ma molto dipende dal tipo di detergente, ricordati di leggere Sempre l'etichetta prima dell'uso Una volta massaggiato sulla pelle, procedi al risciacqua con acqua tiepida Tampona delicatamente una salghietta sul viso e prosegui con i trattamenti successivi La doppia detersione, cos'è e come si fa? Hai mai sentito parlare di doppia detersione? La doppia detersione è un metodo di pulizia che prevede l'utilizzo di due tipi di detergenti diversi La prima fase prevede l'impiego di un olio detergente, la seconda di un detergente schiumogeno Questo consente di ottenere una pulizia approfondita e completa, che include struccaggio e detersione insieme Otterrai una pelle pulita, nutrita e idratata nonché più sana sul lungo termine Tipologie di detergenti viso Ma quanti tipi di detergenti per la pulizia esistono? E come scelgo? I più comuni sono quelli in muso o gel, ma la selezione è sicuramente vasta e presenta caratteristiche specifiche per ogni tipologia Vediamoli insieme Detergenti viso gel hanno una texture fresca e gelatinosa che li rende pratici e adatti a pelli miste, grassi e virgola barra acneiche A contatto con l'acqua si trasformano in emulsioni schiumogene facili da risciacquare e dall'elevata azione pulente In alcuni casi possono contenere dei microgranuli che favoriscono una delicata esfoliazione sulla pelle Detergenti viso in muso schiuma soffici come nuvole, confortevoli come una coccola Sono i detergenti in schiuma per il viso, prodotti fortemente indicati per pelli sensibili, miste e normali A contatto con l'acqua producono una morbida schiuma che avvolge la pelle con un tocco delicato e profumatissimo La loro azione pulente è ottima, la capacità di pulire la pelle senza aggredirla assoluta Possono inoltre essere usati nella doppia detersione, combinati ai detergenti in olio Detergenti viso a base oleosa La formula che li compone è composta da oli nutrienti e idratanti La loro funzionalità è quella di dare comfort alle pelli secche e molto secche Puliscono a fondo, rimuovono molto bene il make up e sono indicati soprattutto per la stagione invernale poiché contrastano screpolature e secchezza Un esempio di detergente viso struccante naturale è l'olio di cocco, di cui puoi conoscere i benefici cliccando qui Saponetta per il viso La classica saponetta che tutto pulisce nella sua estrema semplicità Facile da usare, economica e facile da reperire, in realtà va scelta con attenzione, deve infatti avere un pH non troppo acido e adatto alla propria pelle Un esempio noto è il sapone nero africano, scoprilo nell'articolo dedicato Detergenti viso in polvere polveri composte da amido ed estratti vegetali, a contatto con l'acqua diventano emulsioni schiumose dall'ottimo potere pulente Meno diffuse rispetto ai classici detergenti, risultano essere soluzioni molto valide per pelli normali e sesecche Latte detergente cremosso e delicato, è uno dei metodi per la pulizia del viso più conosciuti e apprezzati Tanto nutriente quanto confortevole, il latte detergente è ottimo per la pulizia della pelle secca che nutre e idrata Sufficiente il potere struccante, per la rimozione del make-up meglio scegliere prodotti più specifici Acqua micellare grazie alle micelle che la compongono, è efficace sia per struccare che per detergere Lo sporco viene infatti intrappolato dalle micelle che rimuovono qualsiasi tipo di impurità dalla pelle lasciandola luminosa e rivitalizzata Il segreto? Tamponarla con delicatezza e risciacquarla ogni volta dopo l'uso Per saperne di più sul suo utilizzo e scoprire le migliori e giti ponte e virgola clicca qui LT, detergenti viso struccanti bifasici Una soluzione composta da due metà, una prima composta da oli, la seconda da acqua Agitando il prodotto le due parti si miscelano per dare vita ad un'emulsione leggera e delicata che pulisce e strucca in un solo gesto Si adatta bene a tutte le tipologie di pelle e dà una buona azione pulente e purificante L'applicazione avviene tramite un vischetto di cotone che va tamponato sulla pelle da risciacquare dopo l'uso E giti ponte e virgola scopri i migliori struccanti bifasici e come si usano e LT, detergenti viso, come sceglierli Tutto inizia dalla pelle È infatti da un'analisi preliminare delle condizioni cutanee e delle diverse necessità che si delinea la scelta del detergente migliore Il detergente deve, in primis, rispettare la natura della pelle e l'acidità del suo pH naturale I detergenti non sono uguali e ognuno presenta caratteristiche specifiche per un determinato tipo di pelle Per la pelle secca, molto secca è sensibile meglio optare per detergenti in crema o schiumogeni La formulazione dovrebbe essere alca e il free, lenitiva ed estremamente idratante Se hai una pelle mista considera l'acquisto di un detergente delicato, rinfrescante e con azione dermoregolatrice Puoi usare sia le texture in gel che quelle in crema o bifasiche La pelle grassa e quella con acne necessita di detergenti purificanti e pulenti, specifici per spegnere le infiammazioni Purificare la cute e liberare i pori ostruiti nonché contrastare i punti neri La migliore texture è quella in gel, fresca e indicata per il trattamento di questo tipo di pelle Cosa devono contenere? Un buon detergente viso dovrebbe avere una formula alca e il free Contenere molti ingredienti di natura vegetale e non essere comedogeno Ricordati che il detergente viso deve migliorare le condizioni della pelle e non peggiorarle Si tratta di uno step fondamentale per la cura del viso, da non sottovalutare né ignorare Scegli sempre con consapevolezza, basandoti sulle tue esigenze e sul contenuto dell'etichetta Conclusioni Ti abbiamo mostrato quali sono i migliori detergenti per la pulizia del viso Diccila tua con un commento Qual è il tuo detergente viso preferito in assoluto? Potrebbe interessarti anche, niacinamide, cosa e quali sono i migliori prodotti che le contengono Le migliori essenze coreane da provare per una pelle bella e luminosa contorno occhi Le migliori creme e consigli utili per prevenire rughe e occhiaie